www.feyyaz.tv 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 Sarebbe l'ape? Sarebbe un po' grassa. Chi cos'è la galà? Chi la galà? Di Pai. Ecco. E' una bella. Perchè qui per esempio ti metto il denno. E' la mia denno. Il cuore il caigli lo sovanello. Il cuore la galà? Il cuore il cuore il caigli. Il cuore il caigli.